La Piazza Revo l'inaugurazione di una nuova concessionaria Jeep in un momento internazionale non semplice ma dove il vostro marchio invece si sta facendo conoscere sempre di più Sì, prima cosa sono contentissima di essere qui stasera perché i nostri clienti Jeep a Sanremo hanno sofferto per troppo tempo della vancazza di un concessionario e finalmente abbiamo trovato un partner di livello, un grande imprenditore, Maurizio Zaccarato che qui alla Grandi Auto ha fatto veramente una grande serata in onore dell'inaugurazione della sede Jeep e della presentazione del nostro granchiero Come hai detto per Jeep è un momento veramente importante perché l'8 settembre il nostro CEO ha lanciato il Zero Edition Freedom Plan dove da qui al 2025 lanceremo 5 nuovi prodotti interamente elettrici Tutti orientati al futuro, al futuro delle nostre generazioni con il TNA Jeep che ormai è quasi un'icona del marchio Freedom, authenticity, passion e performances Jeep parla ai clienti che hanno voglia di avere libertà, che si vogliono riconoscere in una macchina unica, autentica che hanno una grande passione per quello che fanno e che hanno bisogno di performance Il passaggio importante della nostra evoluzione è che Jeep si è modificata perfettamente in linea con i tempi perché lo sappiamo la necessità urgente di salvare il nostro pianeta Mantenendo il proprio DNA, le nostre macchine elettriche non perdono le capacità off-road che da sempre sono caratteristiche della Jeep E ripeto una bellissima serata, la serata inaugurale del Grand Cherokee Il Grand Cherokee Plug-in Hybrid è l'ultimo tassello della gamma Plug-in Hybrid Jeep Siamo partiti con Renegade, con Compass, con il Wrangler, la nostra icona e il Grand Cherokee, ricordiamolo, è il SUV più venuto da sempre Noi già dal 2020, quando siamo partiti con la missione elettrica, siamo primi in Italia che non è una cosa banale, siamo stati più veloci i più, ripeto, che hanno mantenuto il proprio DNA ma hanno saputo affrontare le nuove sfide e con il Grand Cherokee completiamo la nostra gamma Jeep, la cosa più importante in assoluto, il centro di tutto quello che facciamo sono i nostri clienti e come ho detto all'inizio è per quello che sono contenta che qui abbiamo trovato un partner che possa dare veramente soddisfazione ai nostri clienti